Tutto il mondo del blockchain, delle criptovalute sta diventando un po' una moda, a volte anche come dire esagerata, ma sta anche ispirando delle storie di successo di imprenditori nuovi della nostra economia, come per esempio Francesco Fasanaro, che adesso vi vado a raccontare. La sua società si chiama Fidelity House e si può riassumere in un mosto la strategia di questa società che praticamente se conosci l'uso sapiente degli algoritmi puoi partire alla conquista del mondo. Questo dice Fasanaro che cosa fa Fidelity House, distribuisce e rende virali contenuti di vari autori ripartendo con loro gli utili sotto forma di criptovalute. Stiamo parlando comunque di una realtà molto ampia, 750 milioni di pagine viste su Facebook in un anno, 5 milioni di fan, 2,8 milioni di fatturato dalla digital advertising. La prossima tappa di Fasanaro è sviluppare un sistema capillare di blockchain per far passare attraverso questi sistemi sia i contenuti che devono essere originali, sia i pagamenti in criptovalute. Anche la storia di questa società con l'intervista Francesco Fasanaro la trovate sul mensile Forza.